La sua vita era cambiata all'età di 29 anni, quando la guerra tra le famiglie di San Luca lo costrinse a vivere per sempre su una sedia a rotelle. Francesco Pelle venne infatti ferito in un agguato il 31 luglio del 2006, raggiunto da colpi di fucile mentre si trovava sul balcone di casa insieme al figlio appena nato. I proietti le raggiunzero alla spina dorsale, provocando una paralisi. Conosciuto come Ciccio Pakistan, secondo gli inquirenti, è stato tra i protagonisti della faida di San Luca, la guerra tra i pellebottari contro Inirta Strangio, sfociata nella sanguinosa strage di Duisburg in Germania nel ferragosto del 2007, nella quale vennero uccise sei persone nel ristorante pizzeria da Bruno. La strage in Germania fu subito inquadrata nella faida, che vedeva già contrapposte dal 1991 le cosche Bottari, Pelle e Romeo e Strangio nirta. Riesplosa violentemente con l'omicidio di Maria Strangio avvenuto la sera di Natale del 2006 e passato appunto alle cronache come strage di Natale. Pelle si trova ora in stato di fermo portoghese, nell'ospedale dove era ricoverato per positività al Covid. Il prossimo passo sarà l'estradizione, a seguito della quale in Italia gli sarà notificata l'ordinanza d'arresto. E c'è un altro latitante di Indrangheta, catturato la passione per la cucina. I tatuaggi hanno incastrato Marc Ferren Claude Biart. Biart, 53 anni, è stato arrestato stamattina all'aeroporto di Milano Malpensa, dove è arrivato da Santo Domingo. Su di lui gravava un'ordinanza di custodia cautelare messa nel 2014 dal GIP di Reggio nell'ambito di un'operazione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A Santo Domingo Biart aveva creato un sito di Cucina Italiana su YouTube, dove venivano postati numerosi video di ricette in cui era presente un uomo mai ripreso in volto. L'amore per la cucina italiana ha consentito di seguirne le tracce, mentre quella per i tatuaggi di riconoscere nel latitante quel cuoco inquadrato nei video, ma sempre senza volto.